Una donna di nome Cindy James per anni ha vissuto in una situazione a dir poco agghiacciante. Qualcuno o qualcosa continuava a seguirla, a minacciarla, e la polizia non poteva fare assolutamente nulla per aiutarla. Cosa fa paura di questa storia? Beh, che potrebbe succedere a chiunque e in qualsiasi momento. E non ci sarebbe modo per uscirne, se non con la morte. Ciao belli d'ezio, sono Andrew e anche questo venerdì sono pronto a raccontarvi una storia da brividi. Se vi piacciono le cose oscure, macabre e misteriose siete nel posto giusto perché questo è tutto ciò di cui parliamo qui. Consiglio quindi di mettervi comodi e di non rispondere al telefono, perché adesso iniziamo ad indagare sul file di oggi. Buongiorno e benvenuti sul set di Red Room. Questo è il nostro nuovo video podcast in cui nella prima stagione vi raccontiamo le vere storie che hanno ispirato molti film, spesso film horror. Nei vari episodi vi racconteremo diversi casi, troverete un po' di tutto, true crime, paranormale, un po' mistero. Quindi tutte cose che secondo me possono davvero essere di interesse. Vi lasceremo nella descrizione di questo video il link al canale YouTube di Red Room. Quando vedrete questo video sarà già disponibile sul canale il primo episodio, quindi vi aspettiamo lì, speriamo che vi piaccia. Ovviamente essendo un video podcast ci trovate anche in tutte le piattaforme di streaming per podcast, quindi se volete ascoltarci ci trovate anche lì vi lasciamo tutti i link qui sotto. E adesso torniamo al nostro video. Questa storia ragazzi è una delle più strane che abbia mai sentito. Facevo e faccio tuttora fatica a credere che sia successo, ma oggi più che mai non vedo l'ora di leggere le vostre opinioni, quindi facciamo con ordine. Siamo nel 1982 in un sobborgo chiamato Richmond nella città di Vancouver in Canada. Qui vive la bella Cynthia Elizabeth Huck, chiamata da tutti Cindy. Cindy nasce il 12 giugno 1944 nella Columbia Britannica, una provincia canadese. Suo padre Otto è un colonnello dell'aeronautica, mentre sua madre Tilly è una casalinga e madre amorevole di ben sei figli. Sì, all'epoca era normale avere tutti sti figli. Comunque l'intera famiglia si è spesso trasferita da un posto all'altro proprio a causa del lavoro del padre. Perciò Cindy non ha avuto molte possibilità di farsi degli amici e in generale la famiglia non è che vivesse benissimo. Suo padre Otto, infatti, è un tipo piuttosto severo e fin da piccola Cindy passa molto tempo a casa a fare le faccende insieme a sua madre Tilly. Non ha modo di andare a giocare fuori o socializzare. Non lo fa nemmeno troppo con i suoi fratelli e sorelle, con cui ha comunque un buon rapporto. Vorrebbe sentirsi un po' più libera, meno controllata, meno costretta a seguire certe imposizioni. Negli anni quindi cresce in lei questo senso di ribellione, di voglia di fare semplicemente tutto ciò che desidera. Ebbene ottiene questa libertà anche piuttosto presto, perché nel 1962 compie 18 anni e si trasferisce da sola nella città di Vancouver. Siamo in anni in cui vedere una ragazza così aperta e libera fa un certo effetto, specialmente considerando che a Vancouver Cindy non ha nessuno e nessun tipo di appoggio a quanto pare. Diciamo che non venivi vista molto bene se eri una diciottenne sola in una grande città. La gente magari pensava che fosse una prostituta, una scappata di casa o semplicemente troppo ingenua. Che tempi. Ma Cindy letteralmente se ne sbatte di queste dicerie e si iscrive ad un corso di formazione per fare l'infermiera, così da trovare un lavoro al più presto. Era comunque inevitabile che non rimanesse sola, anche perché in quel periodo, cioè nel periodo di questo corso di formazione, fa un incontro molto importante. Ha un colpo di fulmine con un uomo di 39 anni, quindi molto più grande di lei. Lei vi ricordo che ne ha 18. Lui si chiama Roy Makepeace, tradotto letteralmente fai pace, e diventa una sorta di tutor per Cindy sempre nel corso di infermiere, ma finiscono presto per conoscersi anche in modo intimo. Tutto normale direte voi, ma c'è un piccolo grande problema. Roy è sposato. Lui e Cindy sono quindi amanti di nascosto. Perché figuratevi, all'epoca bisognava fare tutto in modo molto riservato. Sarebbe stato uno scandalo epocale in quegli anni se qualcuno avesse saputo che un quarantenne sposato se la faceva con una ragazza di 18 anni. Già oggi farebbe comunque discutere, figuratevi negli anni 60. Quindi sì, sarebbe uno scandalo, ma a loro non importa. Si amano davvero a quanto pare e sentono che sono destinati a stare insieme. Quindi anche se all'inizio tenevano tutto nascosto, dopo un po' decidono di scandalizzare un po' tutti. Roy lascia sua moglie e si sposa, proprio si unisce in matrimonio con Cindy. E i due non si preoccupano affatto di nasconderlo, anzi sono felici insieme. E ovviamente non c'è cosa più bella di questa. La ragazza ormai sempre più donna scrive una lettera indirizzata ai suoi genitori per informarli del matrimonio. Ma loro non reagiscono come si sarebbe aspettata. Non sono per niente felici. Anzi si ipotizza che loro, Otto e Tilly, avessero accusato Roy di essersi approfittato della loro giovane e ancora ingenua figlia. Tutto questo comunque non impedisce le nozze, che almeno in teoria sembrano essere andate molto bene. Nei primissimi tempi la relazione e il matrimonio vanno abbastanza bene diciamo, ma dopo non molto iniziano una serie di cose che mettono in discussione tutto quanto. Cindy dimostra di essere un tipo piuttosto problematico e nessuno sa spiegarsi il motivo. Cioè non era affatto così prima delle nozze. Molte fonti online raccontano che lei non avesse nulla di anormale, che fosse una donna come tante altre. Altre invece sostengono che già a questo punto della vicenda Cindy fosse un po' matta. Perdonatemi il termine. Si ipotizza una sorta di disturbo della personalità. Per esempio si racconta che lei avrebbe urlato contro suo marito Roy senza motivo. Oppure si dice che lo accusasse di essere violento davanti ai suoi amici. Accuse che però Roy smentisce sempre con assoluta determinazione. Eppure potrebbe essere tutto vero. Roy potrebbe davvero essere un marito violento e lei essere un po' instabile mentalmente. Sono congetture ma è confermato che la loro vita di coppia non fosse per nulla serena. Chi è all'esterno non capisce cosa stia succedendo tra loro due e soprattutto non capisce il perché. Non si riesce a comprendere neanche se il marito fosse davvero violento nei suoi confronti. E se invece lei si fosse inventata tutto? Boh forse per screditarlo? Cacciarlo? Forse sì perché a metà del 1982 i due si separano legalmente. Molto probabilmente in quel momento sono stufi l'uno dell'altra e poco importa chi è iniziato. I due si dimostrano assolutamente incompatibili nello stare insieme. Quindi è meglio così. Meglio che si separino. Una cosa che non è chiara è se avessero avuto dei figli. Ma sta di fatto che i due adesso che sono a debita a distanza sono felici. Cindy ottiene finalmente un lavoro come infermiera. La sua vita può finalmente ripartire con quell'adrenalina che la accompagnava il giorno della sua prima partenza per Vancouver. Ha tutto un futuro davanti, una casa tutta sua, la piena libertà nel scegliere cosa fare e non ha un marito o una famiglia che lo obbligano a fare o non fare certe cose. Di sicuro si è fatta degli amici ma è comunque un periodo piuttosto turbolento. Ci sono tutti i presupposti per una strada di vita tutta in salita. Peccato però che da quella salita lei cadrà rovinosamente verso il basso. Cindy pensa di aver finalmente il controllo totale della sua vita. Pensa di poter essere indipendente e libera. Pensa anche di essere sola e le piace molto. Ma qualcuno fuori casa sua, qualcuno che forse lei non conosce, la controlla. Circa 3-4 mesi dopo la separazione con Roy, giusto il tempo di illudersi della nuova vita, della nuova libertà, comincia a ricevere continue chiamate inquietanti. È l'inizio di una lunga serie di orrori. Sentite, questo è un esempio delle chiamate che riceveva. Ascoltate bene cosa dice e in che modo lo dice. Non so voi ma se io ricevessi una cosa del genere mi cagerei addosso e infatti Cindy era spaventatissima. Anche perché queste chiamate si fanno presto più frequenti e questo nonostante lei comunque le ignorasse. A volte la svegliano nel cuore della notte, altre volte la persona dall'altro capo del telefono non dice nulla, nemmeno una parola. Si limita solo a respirare in modo molto inquietante. Ci sono delle volte in cui la voce misteriosa si fa direttamente minacciosa e attacca Cindy e la sua famiglia ma senza dire troppo. È evidente che qualcuno si stia prendendo gioco di lei, la vuole spaventare, magari pensa che sia un gioco divertente e infatti lei continua ad ignorare tutte queste chiamate ma ad un certo punto non può più fare finta di niente. Questo perché la persona responsabile di quelle chiamate sembra farsi viva. Nel senso, Cindy in quei giorni si sente osservata, seguita, sia in casa sia quando esce. Il farti sentire costantemente a disagio e pedinato è tipico di chi vuole rovinarti la vita. È il comportamento di qualcuno che non vuole che tu abbia scampo. Il cacciatore ti farà sentire preda, ti sfinirà fino a quando o cederai alla pazzia o ti lascerai sbranare. Per farvi un inquietante esempio, un giorno Cindy si sentiva osservata. Decise quindi di chiudere le tende, ma un secondo dopo il telefono squillò e una voce minacciosa le disse che non sarebbe servito a nulla a chiudere le tende, perché lui la stava osservando. Immaginate il terrore di questa donna, la paura di essere stalkerata da qualcuno che non conosce ma di cui avverte una certa familiarità. Non sa come spiegarlo ma sente di sapere chi sia l'artefice di questi terribili scherzi. Ma ragazzi purtroppo siamo solo all'inizio. Tre giorni dopo quest'ultima chiamata, Cindy e la sua nuova amica, una certa Agnes Woodcock, vanno a cena insieme. Una volta tornata a casa, Cindy capisce di aver subito un'effrazione. Una delle finestre è rotta e l'intruso ha fatto a pezzi tutti i cuscini del letto. Poi la donna trova la chiave della porta d'ingresso sul suo comodino. Questa è la prima di una lunga serie di manifestazioni fisiche, effettive e concrete. Davvero solo una delle prime. D'ora in poi l'incubo diventa realtà, diventa palpabile. Nelle settimane successive sente qualcuno strisciare nel pavimento, mentre lei è in casa, cioè ci rendiamo conto. Le luci del suo portico poi vengono sempre distrutte da qualcuno che di notte, o in generale quando lei non è in casa, si diverte a fare casino, a romperle e quindi a terrorizzarla. Oltre a questo, spesso la linea del telefono le viene staccata o proprio rotta, tagliata. Riceve anche dei fogli con delle scritte molto inquietanti. In questi fogli vengono messe in ordine delle lettere di giornale per comporre frasi minatorie, come quella che state vedendo. Questi messaggi le vengono lasciati davanti alla porta e quello forse più famoso di questa storia è questo qui. Altri messaggi vengono addirittura lasciati appesi in dei fili in giardino, segno del fatto che il colpevole conoscesse a memoria ogni centimetro della casa e ne aveva accesso ogni volta che voleva. Sappiamo anche che le veniva consegnata della carne cruda e persino i suoi animali non sono stati risparmiati da questo assurdo accanimento. Il suo cane, per esempio, è stato trovato legato in un modo davvero violento e pericoloso per la sua salute. Per non parlare di quella volta che le hanno ucciso tutti i gatti e i loro cadaveri sono stati appesi, lasciati tutti in giardino con un biglietto con su scritto «sei la prossima». Cioè, ci rendiamo conto di quanto malata fosse questa persona. Non so se vi state immaginando quanto terribile sia diventata la vita di Cindy. Immaginate di avere uno stalker inquietante che si fa vivo praticamente ogni giorno. Un giorno vi stacca il telefono, l'altro vi ammazza gli animali. L'altro ancora cammina in casa vostra in piena notte. Cioè, sembrano proprio scene da film horror. E non sto esagerando, sicuramente qualche film sia ispirato a questa vicenda, perché dai, cavolo, non ha senso per quanto fa paura una cosa del genere. Ma ragazzi, lo so, sembra assurdo, ma questo ancora non è niente. Il 27 gennaio 1983 succede una cosa davvero terribile. La sua amica Agnes Woodcock si presenta a casa sua per farle visita, ma trova Cindy nel garage. Era stata aggredita con un oggetto appuntito e aveva dei fili di nylon, neri, legati molto stretti intorno al collo. Una volta liberata, ha spiegato di aver sentito bussare dalla porta sul retro. E quando l'ha aperta, si è trovata davanti un uomo che l'ha costretta a entrare nel garage, dove appunto l'ha legata e è aggredita. Cioè, avete capito di che vita orribile stiamo parlando? Un'ansia continua, un limbo in cui non sai chi ti sta facendo del male e perché. E sono sicuro che già molti di voi si sono chiesti, ma non ha mai chiamato la polizia? Non è che forse c'entra il suo ex marito? Certo ragazzi, lei ha chiamato la polizia e ha anche denunciato più volte queste situazioni. Ma il problema è che il responsabile o i responsabili non lasciavano tracce. A quel tempo non sembrava esserci un modo per capire chi fosse il colpevole. Chiunque fosse era davvero bravo a non lasciare niente di sé. Si dice che era come un fantasma, una presenza inquietante che, per qualche motivo, si è interessata a lei in modo morboso. Ma c'è anche un altro problema. Perché? Qual è il movente? Perché è iniziato tutto questo? C'entra davvero il suo ex marito? E se sì, perché? Per vendicarsi del divorzio? È possibile, infatti viene effettivamente aperta un'indagine contro di lui, ma produce davvero scarsi risultati. In totale vengono spesi quasi un milione di dollari canadesi per le indagini, ma portano ad un nulla di fatto. E pare che comunque lei abbia fatto tutto ciò che avrebbe fatto chiunque in una situazione del genere. Ricordate per esempio l'episodio del garage? Ecco lì Cindy si è recata alla polizia e ha spiegato tutto. È stata quindi sottoposta a diversi test del poligrafo. Test che però ha fallito. Tutti quanti. Ciò significa che, in base a questi test non troppo affidabili, stava mentendo. Gli investigatori quindi fanno poco per aiutarla, sia perché materialmente non ci sono indizi, ma anche perché nutrono dei sospetti proprio verso di lei. Intanto Cindy è preoccupata da morire e decide quindi di assumere un investigatore privato, un uomo di nome Ozzy Caban. I due fanno in modo di sentirsi costantemente e in ogni momento. Spera così di avere un minimo di pace. Pensate a tutte le notti insonni che stava passando. Deve essere stato davvero terribile per lei. Ma il 30 gennaio dell'84, il detective privato Ozzy sente degli strani rumori al telefono. Si precipita a casa di Cindy e la trova distesa sul pavimento priva di sensi. E anche questa volta ha dei fili di nylon neri legati al collo, ma anche un biglietto infilato in una ferita sul dorso della mano. Questo recita, ora devi morire, Cindy. In seguito all'incidente, il detective privato ha dichiarato, Cindy mi ha detto di aver notato un uomo che entrava dal cancello. La cosa che ricorda dopo è di essere stata colpita su un lato della testa con un pezzo di legno o qualcosa del genere. Poi si ricorda di essere stata trattenuta con la forza sul pavimento. E ricorda di un ago che le è entrato nel braccio. A questo punto la polizia si insospettisce tantissimo. Interviene anche questa volta, ma nota che non c'è niente. Non ci sono segni di effrazione e non c'è alcun indizio che faccia pensare che uno sconosciuto sia introdotto in casa. Anche se Cindy ha effettivamente quella ferita sul braccio. Ma non c'è altro. Niente da analizzare. Niente di niente. Si continua comunque ad indagare sul caso. Provano a pensare che ci sia davvero qualcuno così ossessionato da Cindy. E provano anche a rispondere ad una delle domande di prima. È l'ex marito il colpevole? Così Roy viene portato in centrale per un interrogatorio. Questa occasione viene a galla la tossicità assurda del loro matrimonio. Si scopre che in effetti si sono verificati anche degli episodi di violenza domestica, ma nulla che giustificherebbe tutto quello che sta succedendo adesso a Cindy. Insomma per i detective Roy è innocente. Intanto le tragedie di Cindy non smettono. La donna viene di nuovo attaccata nel luglio dell'84. Ancora una volta ha segni di aghi sul braccio e del nylon nero legato al collo. La polizia intercetta il suo telefono e rimane sempre allerta. Si appostano fuori casa sua e controllano ogni suo movimento e di chiunque passasse di lì. Ancora una volta vogliono crederle, tentare di dimostrare qualcosa, di dimostrare che ci fosse davvero qualcuno che la perseguitava. Ma per tutto quel tempo in cui la polizia ha sorvegliato la casa di Cindy, il mostro nell'ombra non si è fatto vivo. E allora la polizia inizia a pensare davvero male. Nasce la più grande controversia di questo caso e il motivo per cui se ne discute tuttora. Qualche fonte online ha preso proprio a cuore la versione che vede Cindy come vittima al 100%, ma la polizia ormai la pensa diversamente. Pensa, e se non fosse così? E se tutte le cose che le sono capitate siano state organizzate da lei? Molti non credono a questa versione dei fatti. Molti credono che Cindy stia subendo realmente gli abusi di qualche pazzo squilibrato. Anche perché se stesse mentendo chiunque si chiederebbe perché. Perché Cindy avrebbe inscenato questa serie di incidenti? Cosa spera di ottenere? Vorrebbe accusare il suo ex? Mandarlo in galera? E se sì, perché fin da subito non lo ha denunciato accusandolo pubblicamente? Perché invece di fare il suo nome fin da subito è sempre stata vaga e terrorizzata? Ragazzi se continuassi con le domande e le congetture questo video finirebbe domani, credetemi. Quindi fermiamoci per un secondo e torniamo alla nostra storia. Come vi dicevo la polizia sospetta fortemente che tutte quelle situazioni siano inventate. Delle bufale, create ad hoc per chissà quale scopo, ma queste presunte bufale non smettono di accadere. L'11 dicembre 1985 Cindy si sveglia in un fosso a poco meno di 10 km da casa sua. Ha gli stessi segni di ago e ancora una volta del nylon intorno al collo. Ormai erano diventati il modus operandi del suo misterioso tormentatore. Dopo questo ulteriore incidente, decisamente spinto e spaventoso, la donna cerca in tutti i modi di farsi aiutare. La sua amica Agnes e l'ex marito Roy iniziano a stare in casa con lei. Quasi si trasferiscono a casa sua, nella speranza di tenerla sicuro. Ma una notte dell'aprile dell'86, Cindy corre nella loro camera da letto e dice spaventata di aver sentito un rumore. Anche uno di loro sembra aver sentito qualcosa, così vanno tutti verso quella fonte di rumore, ovvero il seminterrato. Arrivano e trovano l'intera stanza avvolta dalle fiamme. Cioè, se non avessero sentito nulla, sarebbe potuto andare molto peggio per tutti e tre. Comunque diranno poi alle autorità di aver visto un uomo fuori casa. Era in piedi, ma appena si è accorto che lo stavano fissando è scappato. Ma la polizia insiste sui loro sospetti. Crede ancora che ci sia Cindy dietro tutto questo. Pensano che sia stata lei ad appiccare l'incendio e che stia facendo tutto questo da sola. Per quest'ultimo incidente, in effetti, ci sono delle stranezze. Secondo una fonte che ho trovato online, un giornalista ha scritto queste parole dopo l'incendio. Non c'erano polveri o impronte digitali all'esterno della finestra. Qualcuno ha appiccato il fuoco dall'interno della casa. Qualsiasi sia la verità, ragazzi, la cosa sicura è che la salute della donna precipita inesorabilmente. Viene presto ricoverata in un istituto psichiatrico e trascorre lì ben 10 settimane. Durante il suo ricovero è emerso un dettaglio molto, molto importante. Diversi psichiatri, infatti, stabiliscono che lei abbia inscenato i propri attacchi, che soffriva di crisi psicotiche e durante questi episodi avrebbe messo in scena tutto questo, senza poi ricordarsene magari. Quindi anche loro concordano con la polizia sul fatto che avesse sempre mentito, che avesse sempre inscenato tutto. A questo punto viene il dubbio perché, per quanto assurdo, potrebbe davvero essere così. Se lo hanno detto dei medici, che hanno fatto in teoria tutte le analisi del caso, allora forse è vero. Sappiamo però che certi professionisti possono sbagliarsi, specialmente se condizionati dal giudizio della polizia, ma non possiamo esserne sicuri. Non possiamo credere semplicemente che sia stata lei per forza, ma non possiamo neanche credere facilmente ad uno stalker pazzo che nasconde benissimo le sue tracce. Ve l'ho detto io che è una storia assurda. Cindy, mentre è ricoverata lì, scrive anche un diario. E una frase in particolare che ha scritto mi ha fatto pensare. Sentite. Sento ancora che il suo video è la migliore opzione in questa situazione insopportabile e non appena uscirò di qui porterò a termine il mio piano. Ecco, sono parole che parlano da sole e nonostante tutto questo, Cindy viene rilasciata. E ragazzi, non riesco proprio a capire come l'abbiano potuta rilasciare. E non riesco neanche a capire dove sta la verità a questo punto. Cioè, non ha senso, al di là del fatto che avesse mentito o meno, aveva palesemente bisogno d'aiuto. Eppure per qualche motivo è libera di tornare alla sua vita. Una volta fuori, Cindy fa tutta una serie di cose che credo avremmo fatto un po' tutti. Lascia il suo lavoro, cambia proprio casa e cambia anche il suo cognome. Da Make Peace, per via del suo ex marito, a James. Infatti la storia è conosciuta come The Case of Cindy James. Cambia anche il colore della sua macchina. Insomma, prova in tutti i modi a lasciarsi alle spalle tutto quanto. Spera che così facendo la sua vita possa tornare alla normalità. Anche perché adesso dice a pochissime persone di aver fatto questi cambiamenti. Se mai avesse avuto ancora problemi, ora che pochi sanno dov'è e come si chiama, il cerchio dei sospettati si sarebbe molto ristretto. Paralmente, se ha altri incidenti, il colpevole deve per forza essere uno dei suoi conoscenti. Uno di quelli a cui ha detto di aver cambiato vita. Ovviamente premettendo che non sia lei ad inscenare tutto quanto. E così, per un anno intero, la nostra Cindy vede di frequente un terapista. E la sua salute mentale sembra migliorare notevolmente. Ogni cosa sembra tornare gradualmente al suo posto. Può respirare aria nuova in posti nuovi e con gente nuova. Nella nuova casa non accade più nulla. Niente più minacce. Niente più incidenti o tentati omicidi. Ma ecco che inesorabilmente, dopo un solo anno trascorso a rimettere insieme i cocci della sua vita, arriva all'ennesimo imprevisto. Nell'ottobre del 1988, Cindy James viene trovata priva di sensi nella sua macchina. È nuda dalla vita in giù. Legata e con dei fili di nylon intorno al collo. Sembrava andare tutto bene, ma ancora una volta il destino ha dimostrato che non era affatto così. Una volta libera, Cindy dice di sospettare del suo ex marito. E a questo punto è difficile andare oltre la sua cerchia, perché, come vi ho detto, in pochissimi sanno del suo nuovo cognome e degli altri suoi cambiamenti. Davvero, chi cavolo potrebbe essere? Per forza qualcuno che conosce. Eppure anche questa volta c'è una stranezza. Quel giorno in cui è stata ritrovata priva di sensi, l'ex marito era fuori dal paese e aveva le prove. Aveva un alibi. Quindi, se non era stato lui, era forse stato un sicario? Un sicario che magari era stato assunto da Roy? Tutte domande di cui, purtroppo, non avremmo mai risposta. Perché il 25 maggio 1989, Cindy James scompare nel nulla. Il giorno della sua scomparsa, Cindy deposita lo stipendio del suo nuovo lavoro di infermiera, poi acquista un regalo per il figlio di un amico, va in un salone di bellezza e infine fa la spesa. Ma quando l'amica Agnes si presenta a casa sua quella sera, si accorge che Cindy non c'è. Allerta subito le forze dell'ordine. L'auto di Cindy viene trovata nel parcheggio di un centro commerciale. C'è del sangue sulla portiera del guidatore. Il suo portafoglio è sotto il veicolo e dentro c'è ancora la spesa e il regalo incartato. Ma di lei non c'è proprio traccia. E intanto il tempo passa. E la polizia, anche questa volta, non sembra prendere troppo sul serio la questione. Per questo passano ore, giorni, settimane. E ben due settimane dopo, l'8 giugno 1989, Don Vanish, un impiegato comunale, trova Cindy. O meglio, il suo corpo. È disteso nel giardino di una casa abbandonata. Il suo volto è completamente sfigurato e ha una corda avvolta attorno alle caviglie e ai polsi. Anche questa volta ha del filo di nylon intorno al collo. È distesa sul lato destro con le caviglie e i polsi ravvicinati. È come arrannicchiata su se stessa in mezzo agli arbusti. Ormai Cindy James non è più in vita. Siamo quindi arrivati alla conclusione peggiore, allo scenario che probabilmente si poteva evitare. Infatti, fin da subito, tantissimi credono sia stato compiuto un omicidio. A tutti gli effetti. Ma la polizia, invece, sostiene il contrario. Non è d'accordo. Ora più di prima, si creano due fazioni di pensiero. Da una parte, le forze dell'ordine sostengono che quello di Cindy è stato un disperato suicidio. Dall'altra, la sua famiglia e molte persone che si interessano al caso, che sostengono l'esatto opposto. La polizia, per dimostrare di aver ragione, si serve dei dettagli della scena. Cindy aveva una dose letale di morfina nel suo sistema e un mix di farmaci che l'avrebbero portata inevitabilmente alla morte. Ma sostengono che ci sarebbero voluti almeno 15 minuti per fare effetto. Uno specialista di nodi, poi, ha stabilito che Cindy avrebbe potuto legarsi da sola in quel modo in soli 3 minuti. Ma Otto Huck, il padre della vittima, non è affatto d'accordo e dice che la polizia non ha indagato sulla possibilità di omicidio. Dice che non ha indagato su qualcuno che l'ha uccisa, ma si è concentrata sul tentativo di dimostrare che si è tolta la vita. Lui afferma che non esiste che lei sia stata in grado di legarsi così dopo aver ingerito quella quantità di droghe e non c'era assolutamente nulla sulla scena del crimine che indicasse che avesse usato una qualsiasi forma di siringa. Come vedete, il padre non crede affatto che si sia tolta la vita. E forse è vero, la polizia non ha indagato per omicidio. Ha solo cercato delle prove per dimostrare che avesse fatto tutto da sola. Ma la domanda rimane, perché? Perché morire così? Se aveva intenzione di togliersi la vita, perché ha fatto la spesa ed è andata dal parrucchiere? Se aveva inscenato tutte le telefonate e le note minacciose, a quale scopo? E perché continuarle dopo essersi trasferita e cambiato nome, macchina e lavoro? Perché fingere anni di tormenti e rendersi una finta vittima? Chi voleva accusare? Suo marito? E perché? Cosa le avrebbe detto? Cosa le avrebbe fatto? Tutto questo, ragazzi, è semplicemente assurdo. E la cosa peggiore è che potrebbero non esserci mai risposte a tutte queste domande. Ma ciò che è innegabile, come disse una volta allo psichiatra forense Anthony Marcus, è che questa donna era sotto assedio, dentro o fuori. E tra poco vi spiego in che senso. La polizia comunque ha decretato la sua morte come suicidio. Non ha indagato oltre, punto e basta, questione chiusa per legge. Ma rimangono tantissime domande sulla morte di Cindy, e ancora oggi se ne discute. Anche se per la polizia il fascicolo è chiuso, archiviato e dimenticato. Se ne sta parlando online, ma non abbastanza. Almeno non abbastanza da riaprire il caso e condurre una nuova indagine. Magari analizzando il corpo con le tecnologie moderne. In ogni caso sento che sia stato lasciato un po' tutto a metà. E credo sia importantissimo parlarne, informare le persone, far sapere che accadono cose del genere e che purtroppo vengono dimenticate. No, noi non dimentichiamo. E anzi prendiamo come esempio queste storie, perché possono davvero aiutarci. Possono davvero farci capire quando succedono cose simili e possono farci evitare di commettere degli errori, di capire e di aiutare. E credo che questo sia l'obiettivo ultimo di queste storie. Comunque per fortuna non siamo gli unici a ricordare Cindy. Riguardo questa vicenda è stato scritto un libro che si intitola The Deaths of Cindy James. Non so a voi, ma a me fa davvero rabbia rimanere con tutte queste domande nella testa. Cioè, immaginate di subire sul serio tutto quello che è passato Cindy. Fa davvero rabbrividire. In tutto sono stati sei anni ragazzi, sei anni di tormenti in cui più volte ha rischiato la vita, per finire poi senza vita in quel modo. Non sappiamo se davvero ci sia stato uno stalker o un assassino, ma un fondo di verità c'è di sicuro. Cioè, me lo sento. E comunque anche se fosse stato tutto architettato da lei, andava aiutata. Se soffriva di mania di persecuzione e episodi psicotici, bisognava aiutarla. Invece in un modo o nell'altro Cindy è stata abbandonata al suo destino. Non so a voi cosa ne pensate, ma non vedo l'ora di leggerlo qui sotto nei commenti. Credete che Cindy abbia inventato tutto? Oppure no? Siete dalla parte della polizia o dalla parte dei suoi genitori? Fatemelo sapere. E questo ragazzi è tutto ciò che ho trovato su questo agghiacciante caso. È forse una delle prime volte che una delle storie che racconto mi fa questo effetto. Cioè, proprio non capisco. Sono incazzato, deluso, ma anche impaurito. Perché, ragazzi, potrebbe succedere a chiunque in qualsiasi momento fa semplicemente venire i brividi. Intanto, per i pochissimi fedeli che rimangono fino alla fine, anticipo che nelle prossime settimane finalmente farà una cosa che mi chiedete da sempre. E sarò in buona compagnia. Quindi spero che rimarrete nei paraggi. Per cui, se vi ho incuriositi, ricordate di massacrare il pulsante iscriviti. E adesso parlo con te. Sì, proprio con te. Se ancora non ti sei stancato di sentirmi parlare, ti consiglio questa storia da brividi, oppure questa playlist in cui ho raccontato tutte le storie che mi hanno colpito più nel profondo. Se invece siete ancora qui, io come al solito spero che anche questo video vi sia piaciuto. Vi ricordo di seguirmi su Instagram se volete farvi i cazzi miei. E niente, vi ringrazio ancora e vi do appuntamento al prossimo venerdì con un altro file. Ciao!